Amici e amiche della Voce del Diavolo del canale YouTube Milanelò, a proposito iscrivetevi al canale Milanelò, è molto interessante, siamo sempre di più, è una bella community, quindi se siamo in tanti riusciamo a avere anche più, non dico potere, ma più forza d'urto quando andiamo a rivolgere anche delle sollecitazioni alla nostra proprietà. Bene, ben ritrovati, sono giorni di impasse, direi, i nomi sono sempre quelli, un passo indietro, un passo avanti e in un caso è d'accordo il giocatore ma non è d'accordo la società, in un caso è d'accordo la società ma non è d'accordo il giocatore, poi c'è il procuratore, poi ci sono le commissioni che non si vogliono pagare, non si vogliono fare le aste, tutte cose bellissime, ma siamo un po' fermi, però prima di entrare in un argomento specifico volevo sorridere con voi come ho sorriso io, io ho una bellissima chat interna di noi che gestiamo Milanelò e il nostro tecnico per eccellenza, mister Carlo Pogliani, mi ha fatto ridere quando mi ha scritto questa cosa. In sintesi, cosa ha scritto? Premesso, noi ci prendono in giro per Botman, difensore che è andato a Newcastle che è ricchissimo per 40 milioni di euro e poi hanno scritto Milan beffato, in effetti eravamo da tanti mesi su Botman, però Botman obiettivamente, dispiace, a me dispiace che non sia arrivato Botman perché è uno forte, forte di testa, grande fisico, avrebbe fatto qualche gol in avanti, però comunque in ogni caso partiva come terza o quarta scelta, perché la situazione è chiara, i due centrali sono Tomori e Kaluru e poi c'è il vichingo Kier lì pronto a portare il suo bagaglio di forza ed esperienza e di classe, devo dire, come giocatore e come uomo, lo conosciamo bene tutti. Quindi sarebbe stato il quarto, ma comunque un bel rinforzo per la difesa. Bene, tutti i giornali, tutti i media, tutte le televisioni, Milan beffato di qua, di là, di su, di giù. Ripeto, non siamo contenti, ma finisce qui. Non siamo contenti, punto. Vediamo gli altri, no? Quelli che invece fanno i grandi mercati, fanno le grandi cose. Ripeto, Botman sarebbe stato un inserimento come terza o quarta scelta. Bene, vediamo i grandi difensori del calcio italiano. Milan Skriniar, un nome che avrebbe potuto anche cambiare, ma comunque, Milan Skriniar. Bel giocatore, un uomo squadra, forte, potente, giovane. Dall'Inter, via, Paris Saint-Germain. Poi ce n'è un altro, bello, giovane, forte, di grandissime, di grandissime potenzialità. Si chiama De Ligt. De Ligt, veniva dall'Ajax, ora da Juventus. De Ligt, che fine fa? Via. Dove va? Credo al Bayern. Comunque, va via. E sono due. Non due che non sono entrati. Due totem che escono. Poi c'è un altro, veramente forte, molto, molto forte. Secondo me il più forte anche degli altri due. Bene, si chiama Koulibaly. Koulibaly, ok, non è giovanissimo, ha 31 anni, ma sicuramente un fisico pazzesco e integrissimo. Sicuramente ha davanti altri 3-4 anni alla grande. Bene, Koulibaly del Napoli, che fine fa? Via. Se n'è andato al Chelsea. E questi stanno a fare la morale a noi. E questi stanno a prendere in giro noi. Perdono tutti, perdono i migliori, i loro difensori, come dire, principe. De Ligt, Koulibaly, Skrinha. La Juve è abbastanza in difficoltà, perché la Juve perde De Ligt e ha perso Chiellini e ha Bonucci, e ha Bonucci, come dire, ha gli sgoccioli, no? Ma si dice niente. L'Inter probabilmente riuscirà a sostituirlo bene, perché se prende Bremer, come sembra molto bene, sembra che prenda Bremer, fa un ottimo acquisto. Però, ripeto, Bremer è molto forte, ma Skrinha era anche uomo squadra. Non si può dire che l'Inter si rafforzi prendendo Bremer, cedendo Skrinha, tant'è vero che la vautazione è completamente diversa, al di là dei discorsi tra Cairo, Bremer stesso e Ligt. Comunque, e Napoli sicuramente, sicuramente perde il cardine della sua squadra in questi anni, perché aveva dei bei Funamboli davanti e dietro, ha perso anche i Funamboli, li ha persi, perché in signe non c'è più, Mertens non si capisce, comunque in ogni caso è piuttosto vecchio, e ha un bel centravanti, fortissimo, Oshiman è un eccezionale difensore che adesso non ha più. Bene, quindi io volevo dire sommessamente, invece di rompere le balle a noi, andate a vedere, andate a vedere la trave che è negli occhi anche di qualcun altro. Veniamo all'argomento, due minuti su questo argomento, l'argomento Leao. Allora, Leao, io non posso dire che l'ho sempre osannato, Leao è un modo di giocare che qualche volta ti fa anche un po' girare le scatole, però obiettivamente in tre anni ha fatto una crescita enorme e costante. Io, perdonatemi l'ardire del paragone, ma io lo paragono a, mi viene in mente, quando vedo Leao, mi viene in mente Mohamed Ali. Mohamed Ali, più grande pugile di tutti i tempi, prima si chiamava Cassius Clay, poi Mohamed Ali, secondo me, il più grande di tutti, ha fatto anche un film, un libro, il più grande. Bene, lui all'inizio della sua carriera diceva che io svolazzo come una farfalla, pungo come un'ape. Questo è Leao, che svolazza su quella fascia come una farfalla, non tiene nessuno, poi arriva e pungo, comunque di gol ne ha fatti, 11 gol. Ricordo, anche qui sommessamente, che Leao ha direttamente o indirettamente partecipato al 40,5% dei gol che ha fatto in Milano lo scorso anno. Ora, cosa voglio dire? Voglio dire che non possiamo, non possiamo, non dobbiamo permetterci di non rinnovargli i contratti. E' inutile, Elliot, è inutile. Basta questo 4,5, questo muro che blocca le trattative di rinnovo su quelli che meritano. Non mi venite a dire che Leao, un miglior giocatore campionato italiano, non merita almeno 6 milioni più bonus. Li merita. Non li meritano giocatori scarsi. Non li meritano, ma lui li merita. E' il miglior giocatore campionato italiano, il giocatore con più potenzialità del Milan, è il giocatore con la vautazione più alta di tutto il Milan. In questo caso bisogna battere questo cavo di muro dei 4,5 milioni e dargli 6 milioni più bonus. Punto. Senza se, senza ma. Poi, arrivarsi un'offerta di 100 milioni, cresce e lo vuole assolutamente il Manchester City perché il Guardiola si innamora e paga una barca di soldi, va bene. A quel punto, piuttosto, lo venderemo. Lo venderemo a una barca di soldi. Dopo che magari ha fatto ancora un eccezionale campionato. Ma adesso rinnoviamolo, per l'amor di Dio. Adesso rinnoviamolo. Basta con questi 4 milioni e mezzo. E non dico di fare come qualcun altro che dava 7 milioni a Sanchez, 6 milioni a Vidal. Lo stesso Milan che dava l'ultimo ingaggio di Romagnoli, 5 milioni e mezzo. Giusto l'italiare quei costi, giustissimo. Non esiste che Romagnoli prendesse 5 milioni e mezzo. Non esiste. Non esiste, pur se capitano. Non esiste. Per le au, esiste. Per favore, non facciamo scherzi, rinnoviamogli sto cavolo di contratto e poi vedremo. E poi vedremo con calma, avendo noi il coltello dalla parte del manico. Ci sentiamo presto. Ciao. Ciao.